Una macchina incendiata ridotta a poco più di un tizione ardente e al suo interno un cadavere completamente carbonizzato. E' la macabra scoperta fatta ieri sera sulla strada statale 89 che collega a mattinata Monte Sant'Angelo. Il corpo è quello di un pensionato di 66 anni, Pasquale Ciuffreda, residente a Monte Sant'Angelo, ex muratore con moglie e una figlia. La sua auto, una Fiat Panda di colore bianco, era ferma sul ciglio di un tratturo a circa un chilometro dal centro abitato. A dare l'allarme è stato un automobilista in transito che, notando il veicolo in fiamme, ha allertato carabinieri e vigili del fuoco. Giunti sul posto, gli uomini del distaccamento di Manfredonia hanno spento l'incendio notando all'interno di ciò che restava dell'abitacolo la sagoma di un uomo. Del caso se ne stanno occupando adesso i carabinieri di Foggia, Manfredonia e Monte Sant'Angelo, mentre nelle prossime ore il medico legale seguirà una prima ispezione cadaverica. Secondo gli inquirenti non vi sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. Dai primi elementi raccolti, infatti, sembrerebbe che il pensionato nel pomeriggio avesse riempito alcune bottigliette di benzina in un vicino distributore, come ripreso da una telecamera di videosorveglianza. All'origine della tragedia, secondo quanto riferito dal comando provinciale dell'arma, potrebbero esserci dei dissidi in famiglia.